Sanchez, Klassen, buono il lavoro per Schoenet, scarico di Dolberg, fa possesso sulla tre quarti l'Ajax, l'apertura con Traor, in scivolata il suo tiro a cross, allora che passa vicino al palo, al primo palo, poi si perde il pallo laterale, c'è ripartito l'Ajax, buono il passaggio per Klassen, cerca la velocità Dolberg, con il destro va lungo Onana, Dolberg di petto, prova a infilarsi tra due avversari, non ci riesce per il ritorno di Andreu Fontassin, comunque confermiamo che Bongonda da quella parte sta creando indubbiamente grossi problemi alla difesa dell'Ajax, Ajax, che adesso costruisce un po' già a sinistra, Sink Graven, cerca di infilarsi, ci riesce con eleganza, Schoenet, palla al limite dell'area Dolberg, lo scarico, Klassen, prevedibile, rimbucata, allontana la difesa della Celta, Junes, tiro da fuori a lato per il capitano dell'Ajax, allontanato Schoenet, Ugo Maio, pallone prolungato in mezzo, Rossi, contro Sank, complice anche, una buona disposizione della Celta, Traore, palla sul limite, cerca il numero, mezzo due avversari, e lo trova, poi viene fermato però Dolberg, aveva cercato un doppio dribbling, Dolberg ha perso l'attimo, doveva forse calciare subito qui, Junes. Ancora Ajax con Dolberg che salta netto l'avversario, apertura sulla sinistra per Junes, Junes cerca l'area di rigore, Sink, carta sul pallone, lo perde, di Kanz, riparte Sink Graven. Tocco centrale, Ziyech, anticipato Dolberg, all'indietro Ugo Maio, Ruben Blanco, che passa, recupera Ridevalda, ancora per Dolberg, la tiene il danese, che poi aspetta l'arrivo di Klassen, cross ancora per Dolberg, vuole il controllo, col sinistro ve in porta, deve volare per mettere in calcio d'angolo, Ruben Blanco, Dolberg vicino al gol del Vazio, Ziyech, Ridevalda, Ziyech, Dolberg, fermato in fallo laterale da Sergi Gomez, Traore, ancora Traore, prova a passare, gli dà il passaggio Dolberg, Ziyech, Klassen, arriva anche Ziyech, Junes, ancora per Ziyech, Klassen, buono il tocco di prima, palla che torna indietro, insiste l'Ajax, Dolberg, mischia Junes, cercare Dolberg in area di rigore, Dolberg, l'esterno il tocco, Traore, palla dentro l'area, scivolato però, Klassen, saltato Traore, Fontas, doppio tentativo da parte di Alvaro Lemos, fermato, Dolberg, Dolberg riesce a passare, con una certa astuzia si infila tra due avversari, ancora Dolberg, muove bene il pallone Dolberg, l'apertura su Junes, area di rigore per Junes, la mette sul mancino, cerca spazio per il cross, non lo trova dunque con l'Ajax primo e il Celta secondo, Sanchez di Tacco, Dolberg, fallo di ostruzione, calcio di punizione, aveva fatto un gran numero, Dolberg, ha mosso il pallone di Tacco, due ottimi colpitori di testa, arriva il pallone con effetto ad uscire, mischia, colpo di testa sul quale si allunga e allontana il portiere, insiste l'Ajax, palla in fallo laterale, che si era già reso protagonista al ventiquattresimo di una conclusione, deviato dal portiere in calcio d'angolo, finisce in attacco l'Ajax questo primo tempo, ancora Dolberg col destro, ed è gol dell'1-0, l'aveva sfiorato poco fa il gol Dolberg e stavolta lo firma, novembre, penultima giornata del girone, iniziato dunque il secondo tempo, senza cambi, giocano gli stessi ventidue della prima parte di gara, sull'esterno, Younes, Dolberg, buona difesa del pallone, Dolberg, per Klassen, Ziyech, su ripallo ancora Ziyech, si infila, allunga la falcata Ziyech, buono il tocco, attenzione al palleggio di Dolberg, fallo e calcio di punizione, un metro fuori dall'area di rigore, grande occasione anche questa per l'Ajax, il Vass, giocatore danese, classe 89, il rilancio di Sink Graven, fermato Klassen, Marcello Diaz, partiene nello specchio, 5 contro 1, a favore dell'Ajax, che indubbiamente gioca meglio, Dolberg, Traore, palla addosso, Onana, va lungo il portiere camerunense, è cresciuto nella masia del Barcellone, il dribbling, efficace, gli subentra e se ne va Flanas, Flanas fino in fondo sul cross però, attento l'Ajax, è libera, l'ultimo tocco è stato di Dolberg, rimesso dunque a favore, secondo tempo, nell'altra partita, sempre 0-0, tra Panatina e Icos e Standard Liege, Dolberg, fallo sul centravanti Danise dell'Ajax, calcio di punizione dunque, fiscato metri sul campo, Klassen, Dolberg, Traore, ancora Traore, in Sinafaso, Schöne, Weltmann, a cercare Dolberg, dipetto Dolberg, buono il tocco, area di rigore, Klassen, all'indietro Klassen, passa il prossimo avversario dell'Ajax, qui all'Amsterdam Arena, il 24 di novembre, attacca l'Ajax, palla che schizza sulla destra, Traore, area di rigore, Traore, palla a limite dell'area di rigore, Dolberg, Traore, Zieg, cerca la botta in porta, pallone addosso al difensore, per aver rispito la qualificazione, come seconda nel girone, contro lo Standard Liege, che sta sempre vincendo in Grecia col Panatina e Icos, qui c'è fallo contro l'Ajax. Grazie.